la batteria è morta jesse prima quando ti ho detto di mettere le chiavi in un posto sicuro dove le hai messe? qui nel blocco dell'accensione guarda che non è colpa mia la spia non ha suonato che cosa? quell'affare che si mette a suonare quando inserisci la chiave e ti avvisa che il quadro è acceso io lo so che non ha suonato ho solo inserito la chiave non l'ho girata sono mica stupido non lo so che ne poteva sapere che era difettore è una tara ereditaria una cosa congenita ma forse sei caduto e hai sbattuto la testa quando eri bambino quell'affare non ha suonato e poi sei stato tu a dirmi di spostare le chiavi te lo ricordi? ah certo io le avevo appoggiata su quel tavolo merda ho già scusa sul piano di lavoro no che c'è? che c'è? è qui chi è qui? che c'è? Grazie a tutti. Grazie a tutti.